Qua siamo bene, siamo uniti, ci siamo i bambini, c'è dopo scuola, c'è dottore, c'è palestra, c'è tutto, c'è scuola italiano. E cosa volete da noi? Siamo contro la violenza, non facciamo male a nessuno. Lasciate in pace, chiedo per favore andatene, lasciate stare Alice e Donato per noi. Siamo stufa di essere vivere in paura in questa casa. Tutti liberi, liberi, tutti liberi, tutti liberi, tutti liberi, tutti liberi, tutti liberi. Tutti liberi, tutte libere, tutti liberi, tutti liberi, tutti liberi. No, la casa sua dove ha, la sua è iniziativa. Ha già chiamato il suo, ha già chiamato il suo. Qua è la casa sua? Eh? Guardateci tu. No, ma abbiamo una casa per tutti. No, ma abbiamo un'attubbiamo. Ma, abbiamo un'attubbiamo. Adesso vi lascate le strade, c'è un bambino dentro. No, è fatta la bambina qui tanto accaduta insieme. Guarda, guarda, i nostri figli, e piangono ogni giorno. se fanno queste domande e cosa dobbiamo dire, sempre di continuo e di continuo non vogliamo stare insieme noi dobbiamo stare con Alice, sempre Alice e anche Donato perché tutti noi sono la famiglia tutti noi sono la famiglia qui e noi ci stanno proprio da fare e noi ci stanno a ritardo fino a noi e poi l'avvocato fino a noi e poi li modulano però oggi dobbiamo fare forza ciao Tony, ci vediamo presto partigiano Alice libera! Alice libera! Alice libera! Alice libera! Alice libera! Alice libera!